Bentrovati a una nuova puntata di Genoa Weekly News. Weekend di vittorie per tutto il mondo Genoa. Successo della prima squadra sul Cagliari, vittoria per la prima squadra femminile e tre punti anche per la primavera. 1-0 per il griffone sul Cagliari con la rete di destro che raggiunge così quota quattro match casalinghi di fila in gol. È la sesta rete nelle ultime sette partite per lui. Sentiamo le parole di Perine Melegoni al termine della gara. È stata una partita giocata a ritmi alti. Noi abbiamo fatto molto bene per lunghi tratti del primo tempo. Poi abbiamo cominciato a soffrire la loro voglia di raggiungere il pareggio. Però siamo stati molto organizzati. Ci siamo difesi con attenzione, con fame, con voglia di portare a casa il risultato. E alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata una gara diciamo primo tempo. Pensavamo andassi in modo diverso, siamo sinceri. Però queste partite si giocano sempre fino all'ultimo. Siamo riusciti a incanalarla nel modo giusto. E alla fine, lottando, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Termina così il girone di andata con il grifone a quota 18 punti, più quattro sulla zona retrocessione. Così, mister Ballardini. Serve questo. Serve la squadra, serve la serietà, serve l'attenzione, serve la personalità, serve la qualità. Tutte queste componenti ti portano ad essere competitivo. Ma il percorso, insomma, siamo solo alla metà. Quindi adesso arriva la metà più dura. Genoa femminile al terzo posto in classifica. Vittoria 2-1 sulle Azzalee con doppietta di Carola Spotorno. Ritorno in campo e vittoria anche per la primavera di Chiappino. A Begato 9 è 2-1 sulla Fiorentina con la rete di Dumbravanu e il vantaggio definitivo al 94 con Cenci. Seguiteci questa settimana su Genoa Channel. Domani avremo un focus on su un giocatore della prima squadra. Mercoledì una challenge per i ragazzi della primavera. Giovedì un best off del girone di andata e venerdì un focus on su una ragazza della prima squadra femminile. Da Andrea Carretti per oggi è tutto. Alla prossima settimana.